ci è una nuova puntata di vite insospettabili di nuova tesi straordinari gente straordinariamente a caso e oggi siamo qua con Luisa ciao Luisa ciao Valeria ma Luisa tu sei nuova te? sì ora sì da tanti anni da tanti anni ormai sì abito nuova te da 40 anni provengo da Paderno Dugnano a Calderara una frazione qui vicino nell'Interland come sei arrivata nuova te? sono arrivata perché con alcuni miei amici di allora della compagnia di allora di Calderara volevamo fare delle cose insieme come alcuni di noi lavoravano alcuni erano studenti alcuni erano disoccupati volevamo fare in quegli anni lì una qualcosa per noi per la vostra compagnia dei giovani soprattutto per noi cioè noi persone individuali e insieme comunque e così vabbè siamo partiti con l'idea di gestire un campeggio in Sardegna ma vabbè i costi erano elevatissimi e allora alla fine ci siamo ridotti insomma abbiamo cercato altre cose così insomma noi cercavamo qualcosa da fare insieme allora il padre di uno di noi gestiva le acli a Calderara nel circolo ricreativo delle acli dove noi ci riunivamo con la compagnia facevamo riunioni insomma iniziative sì 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 padre di uno di noi che aveva conosciuto questo rappresentante del caffè aveva chiesto se per caso conosceva qualche posto bar locale per noi insomma alla fine questo rappresentante il signor Franco della Mocchito ve lo ricordo ancora alla fine ci ha indicato dei posti dove andare a vedere vabbè alla fine siamo capitati a Novate per caso quindi per caso dalla Sardegna Novate cioè con l'idea di una testa in Sardegna sì ma anche perché vabbè lì insomma soldi non avevamo senza una lira alla fine avevamo individuato il bar Joyce che amava allora l'ex campana di vetro 40 anni fa che era gestito da due signori da una famiglia in pratica che era stanca in pratica di portare avanti quel lavoro lì questi signori ci hanno venduto la licenza c'era ancora la licenza all'epoca? c'era ancora la licenza sì 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 adesso con la nuova legge del commesso di anni fa non so ancora se nel caso tu lasci i locali se puoi depositare ancora la licenza perché ci sono varie categorie che non esiste più la licenza però mi sembra che per bar e ristorante e tutto valga ancora oppure l'avviamento adesso devo dire che noi abbiamo rilevato la licenza da questi signori bar Joyce bar Joyce sì 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 che poi è diventata la campana di vetro dall'inizio dell'anno sto mettendo giù dei racconti che racconta la storia della campana quindi da dove perché sono quest'anno quanti anni sono? sono 40 anni 40 anni di attività abbiamo aperto il 21 gennaio 1983 quindi proprio a gennaio? a gennaio dell'83 sì 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 quindi 40 anni di campana di vetro 40 anni di campana sì sì io 40 anni oggi sono da 40 anni tu 40 anni e 40 anni di campana? eh sì sì è sempre stata la campana di vetro e questi racconti spiego anche come mai si chiama la campana di vetro quindi come poi abbiamo acquistato la licenza dove li leggiamo questi racconti? sono in pratica su facebook, su instagram e poi vabbè ho creato questo gruppo iniziative campana dove metto le iniziative della campana e metto anche i racconti un gruppo facebook? no un gruppo personale che ho creato io che sono siamo in 150 di whatsapp io ci sono allora mi devi mettere su questo gruppo eh perché piano piano ho capito dopo ho visto cosa allora piano piano inserisco le persone e quindi ci sono questi racconti e poi anticipare i racconti saranno 10-12 ho calcolato pensando a quello che io voglio scrivere e adesso sono al terzo racconto è il racconto come noi siamo riusciti ad acquistare la licenza perché in pratica due di noi hanno venduto l'appartamento di Senago quindi potevamo prendere l'appartamento sopra perché poi allora la campana, c'era la campana e poi avevamo preso anche l'appartamento sopra che era bellissimo e alla fine poi si viveva tutti insieme infatti questo poi sarà il quarto racconto due di noi che avevano un bambino sono in pratica andati su ad abitare allora stavi insieme a Riccardo Riccardo avevamo una saletta sopra praticamente eravamo in cinque una comunità che ha deciso di aprire un'attività insieme un'attività in vita sì diciamo che l'aspetto imprenditoriale allora c'era poco nel senso vabbè alla fine volevamo fare qualcosa per noi per fare in modo che comunque la giornata fosse piena di noi nel senso io e Anna l'altra socia lavoravamo già, io lavoravo già da dieci anni a Milano io e Anna facevamo impiegati quindi io ero già stanca del lavoro impiegatizia così non ne potevo più nonostante fossimo molto giovani quindi avevamo già un lavoro dipendente sì noi in pratica due lavorevamo due erano disoccupati i ragazzi con il bimbo erano disoccupati perché erano lasciati a casa Riccardo studiava a Pavia ecco perché poi insomma volevamo fare qualcosa insieme erano anche anni un po' anche che il contesto ci aiutava perché comunque noi avevamo una grossa compagnia siamo ancora perché ci veniamo ancora una grossa compagnia molto grossa quindi ci conosciamo da quando facevamo la media capito quindi è una roba volevamo fare insomma qualcosa insieme per dare anche un senso alle nostre vite vero insomma dove la giornata fosse proprio piena di noi almeno questo è quello che pensavo io e anche gli altri capito così quindi i racconti vanno di pari passo con quello che succedeva in quegli anni quindi anche il contesto storico così cercando, accennando un po' le cose che capitavano in quell'anno anche a livello sociale, a livello anche del paese quindi raccontando anche noi, anche la campana anche noi come eravamo, che cosa abbiamo vissuto prima ci sarà tutto un discorso su come novate era vista ai nostri occhi perché comunque abbiamo qualche problemino l'avete avuto? abbiamo avuto sì, sì, problemino il contesto storico era diverso da adesso allora non c'erano locali in giro gestiti da giovani e anche frequentati da giovani a meno nell'Inter, la parte Stalingrado, il May B quindi un posto così, in questo caso a novate ma poteva essere anche a bollate non lo so, in quegli anni non c'erano locali capito? era una cosa di rompente era una cosa che pezzava un po' la routine noi avevamo 20 anni, dai 20 ai 25 anni quindi eravamo giovani il locale era gestito da giovani quindi figurati così poi noi abbiamo avuto problemi anche con le persone con i tossici abbiamo avuto dei problemi di gestione perché poi anche noi avevamo 20 anni questi avevano, anche loro erano giovani proprio di gestione rispetto a come venire a essere visto quindi noi abbiamo avuto dei problemi con l'amministrazione di allora le forze dell'ordine perché comunque noi difendevamo il nostro lavoro e quindi poi noi insieme siamo stati come campana proprio 5 soci 15 anni e non è poco 5 soci eravate? eh sì siamo stati insieme 15-16 anni proprio lavorare sempre insieme poi ti dico i primi anni si viveva insieme io e Anna, questa mia socia abitavamo a Milano io sono uscita di casa sono andata a abitare a Milano poi quando c'è stata la campana e vabbè poi fino a Porta Romana fino a Novata alla fine ho trovato una sistemazione Novata diciamo i primi anni così si stava insieme si viveva insieme si mangiava insieme si faceva tutto insieme di tutto e di più è stata una bella un'esperienza di vita perché poi nel momento in cui tu lavori con le persone che ti sei scelto passa anche il tuo tempo libero con le persone che ti sei scelto e lì ti metti in gioco queste persone sono rimaste amiche si 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 ci vediamo ancora oh cavolo si si ci vediamo però poi dopo 15 anni sei rimasta solo tu si dopo 15 anni in pratica può succedere anche in una società che comunque è durata tanto insieme e quindi eh si dall'83 a maggio 97 quindi è stato e lì in pratica c'è stata la separazione la campana si sono rimasta io con un altro socio perché era uscito uno di noi iniziale ed era subentrato quasi subito un'altra persona un altro socio che con lui in pratica sono stata dal 97 al 2003 dopo lui è stato male e alla fine sono rimasta sola con i ragazzi con i miei collaboratori con i ragazzi di allora sono stati un po' gli anni bui della campana per me per quello che io ho vissuto però vabbè devo dire che ho avuto sostegno dai ragazzi di allora da Vicente che poi Vicente nel momento in cui è uscito l'ex socio perché è stato male era stato male così è entrato mi ha dato la mano Vicente a portare avanti la conduzione serale perché prima poi facevo tutto mattina cioè alla fine stavi sempre lì eh sì poi alla fine in pratica quindi adesso c'è io ho un altro socio e poi ci sono i ragazzi che lavorano c'è il turno di uno poi c'è il turno serale ma la campana posso chiederti è nata anche in un contesto politico particolare? sì diciamo che l'intento della campana era che non era solo un bar la campana no quando abbiamo aperto doveva essere un bar dove si socializzava macchinette zero tipo adesso le slot machine che ci sono adesso non le avevamo assolutamente prese in considerazione senza pensare che cosa poi sarebbero diventate c'è tutto il discorso che c'è dietro ma manco già capito non esisteva perché la gente doveva socializzare quindi giochi da tavola addirittura ti dico che le carte erano bandite perché alcuna di noi tra cui io non le volevo c'è proprio perché era un un gioco da solo bar alcuni giocavano però quasi mai nel senso come adesso comunque anche adesso non è che già all'inizio facevamo i concertini su in saletta concertini jazz è venuta un casino di gente che poi è diventata famosa era venuto Filippo Del Corno era venuto a suonare poi Carlo Boccadoro che sono diventati famosi però allora capitano dei ragazzini che poi anche la il primo trio di donne con la Paola Bertassi e la Stefania sì 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 perché facevamo i concerti perché sopra la saletta adesso ha la squadra di musica ci conosciamo da tanti anni perché poi la saletta sopra l'avevamo insonorizzata proprio per fare i concertini e adesso fate ancora concerti sì 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 adesso dentro fuori quando c'è la possibilità anche fuori però aveva anche una connotazione politica negli anni 90 l'amministrazione era PC PSI c'era ancora DC e la DC era l'opposizione da tempo alcuni di noi Riccardo De Facci poi io ma poi tutto il giro di Bruno Fedeli tutto quel giro lì cercava di attraverso la democrazia proletaria che c'era allora cercava di formare una lista è successo poi nel 90 che grazie alla Fayetta che era andata in Nicaragua ai tempi della rivoluzione a fare dei progetti per le scuole lei faceva politica ci conoscevamo così era venuta da me poi anche con altre persone altri amici si voleva creare una lista civica in opposizione all'amministrazione di allora e lì siamo riusciti a fare una lista molto trasversale lista aperta uno spazio per l'opposizione c'è ancora tutto e lì in pratica c'erano tutte persone di novate abbiamo formato una lista e abbiamo preso un consigliere grazie alla Fayetta è stata la prima eletta dopo è andata in consiglio comunale per qualche mese ma dopo l'hanno chiamata in Nicaragua la seconda ero io e l'ora sono andata tu sei stata in consiglio comunale sì sono stata in consiglio comunale avevamo pensato di fare fare a rotazione quindi non so un anno per uno e io sono stata lì un paio d'anni e dopo mi sembra che arriva a Cardo De Facci e poi alla fine ha finito Roberto Poggi però comunque è stata un'esperienza molto interessante anche tu è stata un'esperienza commerciale metropoli che noi abbiamo votato contro quindi ti è rimasta apprezzionata a novate cioè sei arrivata a me piace per me novate poi sono stata 32 anni in cooperativa benefica in via Garibaldi che è un quartiere che è veramente un gioiellino poi novate secondo me io sento la gente che viene anche se entra nel bar in effetti è vera novate è graziosa perché abbiamo questa cosa che è solo novate nel bene e nel male perché comunque non abbiamo frazione cioè è piccola ha capito 20.000 abitanti però contenuta cioè non è di qua e di là della stazione eh lo so ma questo si sente è vero la campana è di qua o di là? la campana è in centro è di qua è capito è di qua questa cosa della suddivisione del paese secondo me si sente tanto perché lì è stata fatta una roba cioè lì dove interrare il treno si sente la differenza non ce n'è si sente anche noi che siamo di qua la sentiamo comunque a me piace nel senso che io cioè mi sento di novate le persone che vengono in campana adesso rispetto a quelli di 40 anni fa ci sono ancora ci sono persone che sono che vengono da 40 anni e io le ringrazio e devo dire che ringrazio queste persone perché vuol dire che stanno bene si sentono a casa sono contenta insomma la cosa mi appaga ci appaga a me piace che casomai non si fanno la serata perché poi adesso sono cambiate anche le abitudini della gente cioè una volta per dire c'era la serata che iniziava alle 21 di sera perché la gente finiva prima di lavorare alle 17 quindi aveva tutta la serata libera adesso invece la serata inizia alle 22 22 e 30 quelli che vengono da 40 anni adesso si fanno mettere il tardo aperitivo si incontrano ci si beve qualcosa oppure si fanno la colazione c'è chi è andato che è in pensione c'è chi lavora ancora però molte persone che vengono ancora ma anche molti ragazzi che adesso vengono i figli dei figli dei figli degli amici so che la campana potrebbe dare ancora di più così ti scontri poi sai con la questione anche delle ore di lavoro insomma sono tante perché noi siamo aperti dalle 8 alle 2 è continuato tutti i giorni meno la domenica mattina alle 8 di mattina alle 2 di sera 2 di notte è continuato sì tempo è quello che è io a volte dico porca miseria devo andare a letto devo fare delle cose sì perché poi se inoltre pensi così dici porca miseria devo dormire perché dici devo farlo però il tuo corpo giustamente dice calmati dormi perché poi se non dormi ci sono nuove compagnie cioè com'è cambiata sì no no ci sono dei ragazzi nuovi sì sì che mi chiamano signora sono Luisa ma non ci riesco e ho capito allora sai poi ti rivedi dici cavoli ma allora quando tu avevi vent'anni vedevi uno e quarant'anni lo sentivi vecchio vuol dire che la campana è tutt'oggi un luogo di di attualità tra i giovani sì ma le compagnie giovani ci sono infatti anche questa cosa dei racconti la storia è vero adesso il contesto è molto cambiato noi avevamo anche il contesto storico che nel bene e nel male perché anche la nostra generazione ha vissuto delle cose non male rispetto a livello sociale a livello di quello che capitava nel paese però c'era la possibilità di parlare e avevi intorno le persone c'erano le pià potevi parlare capito ti incontravi i ragazzi di adesso hanno meno posti per poter stare insieme e sono più soli e giustamente si chiudono di più hanno più difficoltà comunicare con gli altri con i propri coetanei tutti i racconti sono anche un po' per dire ma guarda che è possibile ancora fare delle cose secondo me bisogna vederla in una prospettiva bella positiva poi ognuno di noi deve fare il proprio pezzo deve cambiare qualcosa all'interno delle piccole cose all'interno di noi ma ognuno di noi deve fare dei piccoli passi per poter cambiare le cose grandi capito deve passare attraverso noi il cambiamento deve passare attraverso noi e non è semplice perché uno si deve mettere in discussione però attraverso quello che uno cresce e cambiano le cose perché se ognuno di noi fa un piccolo pezzettino avremo anche un mondo diverso un mondo migliore insomma io lo spero la campana la campana ha fatto un pezzo di storia di novate importante e ha anche creato delle tradizioni perché c'è la tradizione del 24 dicembre in campana ah beh sì è vero è una tradizione sì sì se lì è pazzesco com'è successa questa cosa del 24 allora da quando c'è la campana che il 24 allora prima ti dico come era organizzato il 24 cioè per dire com'è cambiato adesso allora il 24 si giocava in campana avevamo costruito un gioco dell'oca in saletta con i cartoni avevamo fatto la caccia del tesoro in giro per il paese oh che bello sì una roba così facevamo dei giochi a indovinello si giocava quindi si riusciva a stare dentro e poi facevamo il gioco delle schifezze cos'è il gioco? era uno scatolone che mettevamo lì un mese prima nella sala e poi ognuno doveva portare le schifezze quello che aveva in casa che se ne voleva di soddisfare questo proprio dall'inizio è andato avanti i 15 anni fino a quando c'eravano i 5 c'era questo gioco delle schifezze e poi il 24 si prendeva lo scatolone e si tirava si tirava e quindi chi lo prendeva poi erano delle robe orribili infatti gli ultimi anni però arrivavano i pelati la pasta capito? non è che potete lanciare i pelati no ma infatti stavamo attenti pesavano ma delle robe belle i primi anni il telefono vecchio era una roba era bellissima quindi era iniziato così però poi alla fine mi hanno dovuto smettere perché non si riusciva più a fare niente perché c'era troppa gente adesso la gente sta molto fuori perché prima non c'era lo spazio fuori alla fine abbiamo smesso di fare i giochi facevamo ancora al gioco di schifezze ma al gioco non si riusciva perché c'era troppa gente ma è diventata una tradizione e la gente si vede metti che non si vede però il 24 io vedo delle persone che non vedo meteo d'anno e li vedo il 24 è incredibile è una tradizione infatti quando faccio il manifesto dico il solito ritrovo di Natale poi fare anche la mostra in campana tutte le cose si sia a settembre settembre-ottobre e ho trovato nel 91 noi avevamo io e altre donne di Novate che si chiamavano donne per la solidarietà internazionale dove c'era la Lucia Pezzolato poi c'era la Giuse De Ricco e poi c'era l'Agnese Ronchi che avevamo formato questo gruppo donne per la solidarietà internazionale che in pratica si curava dell'aspetto palestinese di allora e avevamo anche preso in affido una prigioniera politica perché allora le incarceravano perché puntavano le donne perché le donne fanno i figli vabbè tutto il discorso è così per sostenere un progetto di una scuola mi sembra palestina si era organizzato questo border trophy di Novate che c'è stato è stato bellissimo ma pensa che ho trovato con l'aiuto poi anche di altri ragazzi così hanno proprio organizzato proprio tutto le varie prove così come i border trophy di Radio Popolare e ho trovato proprio tutti i partecipanti che erano tantissimi adesso proprio le squadre e i negozi di Novate tantissimi negozi perché poi c'ho la brochure così che l'ho trovato ho detto devo far vedere al Marco che era una che ci aveva dato una mano Marco Sagrato i negozi hanno partecipato con dei doni ma veramente ho detto anche questa cosa qui è stata molto bella divertentissima da riproporla anche quella sarebbe infatti dicevo che bisognerebbe riproporla è un lavorone adesso non è come allora adesso devi stare attento l'avevamo fatta nel 91 secondo me ci sono ancora più macchine l'avevamo fatta in giro per Novate c'erano meno macchine ma quindi ci sarà questa mostra a settembre ottobre adesso sto raccogliendo tutte sì in pratica tutte le cose anche gli iscritti così un po' le foto infatti sto dicendo un po' di gente se avete delle foto facciamo una cosa quindi se avete delle foto qualsiasi ninnolo della campana di questi 40 anni portatelo alla luce sì alcuni mi hanno mi hanno mandato delle foto adesso abbiamo tutto portato di mano anche troppo secondo me sui telefoni e tutto poi adesso quando sono andata ai primi racconti trovare le foto non è stato facile perché dico ma che è che ha le foto di quando siamo andati così cioè non si faceva le foto quindi se trovate delle foto o altre ninnoli bisogna portarle in campana la Luisa una cosa che così volevo per il quinto racconto penso che ci sia racconto un pezzo di storia per collegarmi poi alla storia della campana capito che mi aiuta per poi entrare nel contesto campana mi piace questa cosa non so mi è venuta in mente così quindi continuo così nell'82 però noi proveniamo da un vissuto in quegli anni lì nel 78 c'era stata la novità della legge Basaglia la chiusura dei manicomi ecco perché la campana di vetro perché la campana di vetro è un libro autobiografico della scrittrice Silvia Platt la quale poi è morta suicida così e c'era proprio questo problema di disagio cioè il nome della campana sì 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 il nome proviene da un libro di Silvia Platt che è una scrittrice americana morta suicida del 63 libro quindi è datato e lì collegandomi al racconto avevo fatto un'iniziativa con una psichiatra perché a me volevo parlare del disagio di allora e come poi il disagio e comunque come si era allora il fatto che comunque ad esempio nei racconti parlo sempre di noi cioè io non riesco mai a dire io mi viene automatico noi perché eravamo una comunità abbiamo fatto le cose insieme noi non abbiamo mai fatto le cose da sola come era il vissuto allora e come adesso siamo messi come adesso comunque ci viviamo questa cosa qua e la cosa la voglio fare lo stesso con il quinto racconto perché quando parlo del disagio della tossicodipendenza che c'era allora voglio trasportare questa cosa a cosa sta succedendo adesso volevo chiamare delle persone che allora lavoravano al centro socio sanitario che cosa succedeva allora a Novate e com'è la situazione attuale di adesso per dare anche un senso a questi 40 anni in campana capito e qui a Novate vuole essere un racconto e capire capito come siamo cambiati che cosa è successo se siamo cambiati capito dovrebbe essere a maggio maggio-giugno insomma comunque un sacco di iniziative per questi 40 anni e si te l'ho detto non voglio dormire di notte non dormirai almeno fino al 24 dicembre dopo Natale forse ci si rilassa massimo sì perché io ovviamente tutta una serie di cose tre giorni di festa le iniziative la campana la mostra e tutto così i racconti faccio delle picloline così poi invece mi sono messo a scrivere mi racconto ci raccontiamo un fissare un pezzo di vita dire però è successo questo e stava succedendo questo intorno a noi quindi bisogna seguire assolutamente i racconti sulla pagina Facebook della campana o chiedendo a Luida di inserirvi nel gruppo Whatsapp chiudiamo l'intervista e ovviamente ci diamo appuntamento a tutte le iniziative che ci saranno nella campana quest'anno e per ultimo ma non ultimo al 24 dicembre ovviamente è ormai di riprodizione e da tutti ringrazio grazie grazie a voi e poi magari faremo altre puntate speciali solo quando ci sarà la mostra eh va bene un intanto faccio delle puntate speciali dopo che avrai concluso tutti i racconti che li avremo letti tutti anche via podcast possiamo fare una puntata speciale certo durante la mostra durante la tre giorni vediamo insomma una cosa per volte è certo bisogna dormire un pochino almeno è certo il corpo reclama grazie tanto grazie a voi grazie a te e noi ci risentiamo alla prossima puntata di vite insospettabili di nuova tesi straordinarie gente straordinariamente a caso un programma podcast del circolo sempre avanti